Le altre devono essere valutate attentamente ed eventualmente sottoscritte con terzi dove si va a risparmiare anche fino alla metà. Quali sono le assicurazioni che vengono proposte insieme al mutuo? Solitamente sono quelle sulla vita del mutuatario, che interviene per pagare regolamente il mutuo nel caso in cui il mutuatario venga meno, quella contro la perdita di lavoro in caso di licenziamento, o in altri casi dove si occupa di pagare 6 o 12 mesi di rate. Vengono però proposte anche assicurazioni legate a infortuni o RC capofamiglia. Queste polizze, come abbiamo detto, non sono collegate al mutuo e hanno una valenza commerciale. In quanto, se ci pensate, il mutuo ha anche una modalità per acquisire nuovi clienti. Fammi sapere se ti è capitato anche a te nei commenti e inizia a seguire la nostra pagina per informazioni di finanza del quale non parla nessuno.